I fibromi enterini sono una condizione molto comune per le donne in età fertile, si pensi che si stima che addirittura l'80% delle donne sviluppino nell'arco della propria vita un fibroma, una patologia dell'età fertile superata la menopausa, tendenzialmente tutti questi quadri, tendono a risorsi spontaneamente. I fibromi sono associati a varie condizioni, a infertilità, è stato ipotizzato a problemi legati alla gravidanza e poi possono essere causa di menometroragia, quindi di perdite abbondanti dall'apparato genitale. Però di quell'80% di donne che hanno nell'arco della propria vita sviluppano un fibroma, in realtà i fibromi sintomatici o i fibromi che hanno un rilievo clinico sono una quota molto minore, si può ipotizzare circa un terzo di questi. L'obiettivo proprio di questo incontro è cercare di mettere a punto una strategia per definire quelli che sono i fibromi realmente sintomatici e i fibromi che realmente causano problemi alla donna, il rischio altrimenti è quello di una sovradianiosi e oltre a una sovradianiosi a un sovratrattamento, quindi a portare all'intervento chirurgico o a una terapia medica, donne che in realtà non hanno una conseguenza clinica dal fatto di avere una diagnosi di fibromo terino. Quindi durante questo incontro verranno toccati sia gli aspetti epidemiologici, quindi la frequenza del fibroma nella popolazione generale, quali sono i suoi fattori di rischio, quali sono la percentuale che viene diagnosticata e quale di questa quota poi viene realmente trattata. Ma il focus principale sarà rivolto a definire i quadri clinici che hanno un reale impatto sull'infertilità, un reale impatto sulla prognosostetrica. I colleghi professor Ferrazzi e professor Somigliana discuteranno ampiamente questi aspetti al fine di trovare una posizione condivisa tra tutti su questa indicazione che rischia di essere in tante, tante, tante situazioni sovradiagnosticata e quindi che possa portare a un eccessivo trattamento di condizioni che di per sé sono asintomatico o hanno un basso impatto sulla salute della donna. Buongiorno e benvenuti a questa serie di incontri sul ruolo dei fibromi uterini. Per quanto riguarda la mia parte mi occuperò del rapporto tra fibromi uterini e fertilità, un argomento in realtà tutt'altro che risolto, un argomento che è ancora più importante in quest'epoca storica in cui la donna cerca figli sempre più tardi, vale a dire in un'epoca in cui i fibromi sono sempre più frequenti. Vedremo quanto le evidenze scientifiche a disposizione sono per lo più concentrati sulla fecondazione in vitro e cercheremo invece di tirare fuori, di estrarre dalle letterature quello che è il rapporto tra fibromi e fertilità naturale, che sono due aspetti come vedremo molto diversi. Vi aspetto tutti sabato. Le fibromi in gravidanza sono un problema emergente e sono legati ovviamente all'aumento dell'età materna al primo parto. Siccome l'età della donna è legata alla comparsa dei miomi, le due cose spesso tendono oggi a coincidere. Diciamo che sappiamo, abbiamo sentito che i miomi in quanto tali non sono una patologia, sono un sviluppo quasi parafisiologico dell'ultero femminile in un'area percentuale di donne dopo i 35 anni e abbiamo anche cominciato a capire che i timori che nel passato si legavano alla presenza di fiume in gravidanza oggi possono essere via via ridotti grazie alle tecniche ecografiche che consentono di identificare esattamente innanzitutto la sede e quindi capire quelle che possono essere le neoformazioni che possono in qualche modo interferire con lo sviluppo della placenta, quelli che possono interferire con i meccanismi del parto e quelli che hanno dimensioni tali da rendere critico lo sviluppo della gravidanza. Molto pochi tutti questi, quindi in realtà il fibroma oggi deve essere affrontato con una comunicazione alla donna molto più serena di quello che avveniva nel passato. Cosa voglio dire? Voglio dire che molto spesso noi siamo abituati a considerare i dati scientifici, quindi il rischio relativo, gli out ratio delle varie possibili complicanze del miomi e comunicarli come tali alla donna. In realtà la comunicazione del rischio è fatta in questo modo, temo, vada a creare ansie inutili nella stragrande maggioranza delle donne che oggi sono gravide e hanno dei miomi. Quello che cercheremo di fare nella presentazione sarà proprio quello di affrontare questo tema, il tema del quali miomi ci devono preoccupare, come comunicare il rischio in generale, come comunicare il rischio in queste situazioni e poi anche a pensare al parto dell'utero gravido con miomi e parto naturale, quindi quando poterlo ammettere e quando invece ricorrere alla chirurgia. E per quanto riguarda la chirurgia avremo un caso anche in video emblematico di un utero con miomi multipli più grande dei quali di 30 centimetri in cui appunto abbiamo pensato a una chirurgia non tipica perché è proprio qui il caso di pensare che quando si deve ricorrere al taglio cesareo si immagini di intervenire sulla cavità uterina nella zona più libera da miomi, quindi avere la capacità di predeterminare la serie dell'incisione grazie all'ecografia. Quindi in sostanza un argomento d'attualità, un argomento in cui imparare a conoscere da come medici i rischi, imparare come medici a comunicare i rischi e poi imparare come a gestire il parto nella donna gravida con utero con miomi. Quindi penso sia bello e interessante confrontarci su questo tema e questo noi inizieremo a dare alcuni dati su cui poi discutere e vedere quali sono i messaggi finali che portiamo a casa. Grazie dell'attenzione. Grazie.